C'è 105 e mi casa, metti a palla 105 e fai sentire che ci sei, tu ci sei, c'è 105 e mi casa Qui a Radio 105 torna Mondo Marcio, 105 e mi casa e torna anche Mina con Mondo Marcio Siamo tornati, siete tornati, sì, intanto come stai? Alla grande Max, tu come stai? Ti vedo, ti vedo molto bene, avete sentito che stava bevendo? Perché questa è una casa ragazzi, è salotto, quando arrivano gli ospiti a casa condividiamo anche Oggi nel vero senso della parola Assolutamente, una corda in due Una lattina in due, siamo un po' tirati, il budget dell'anno è già stato fatto e quindi tendiamo a risparmiare qualcosa Ma era un lavoro che avevi fatto già con Mina che era lì, sei tornato a lavorare con lei, com'è nato questo pezzo? Ma in realtà è nato un bellissimo rapporto nel 2014 E mi ricordo Quando abbiamo fatto, ho fatto il mio album tutto usando dei campioni originali delle sue canzoni Due anni dopo ho scritto una canzone per lei e Celentano, Se mi ami davvero, per il loro album che hanno fatto insieme E quando stavo scrivendo questo album avevo una canzone che secondo me era perfetta per lei Allora gliela ho mandata, ci siamo sentiti e lei come l'ho scritto su Whatsapp qualche settimana fa ha benedetto la traccia Ok, che figata, non so se l'ho mai detto davanti a te o no ma ci tengo oggi a dirla questa cosa L'operazione che hai fatto tu con i campioni di Mina credo sia una delle pagine più belle del rap italiano E ormai è di qualche anno fa voglio dire, però magari c'è anche qualcuno che non ci ha messo ai tempi la testa nel modo giusto E andate a risentire perché veramente era stato fatto un lavoro clamoroso È stato un sacco di produzione, un sacco di edica, poi sai la responsabilità da producer che ti senti addosso quando metti mano a dei brani del genere è infinita Mamma mia, mamma mia Io già sono meticoloso di mio, però avendo comunque messo mano ai brani di Mina figurati Tra l'altro per la rubrica del non tutti sanno che, quel disco ha reso possibile il fatto di portare dei sample a Sanremo Ah non lo sapevo Cosa che prima non si poteva fare, perché hanno cambiato il regolamento per Mina perché ai tempi si parlava di fare Sanremo E non si poteva andare con dei brani campionati e quindi è stato cambiato il regolamento apposta per lei Jackson, come le leggi, c'è l'avanti Cristo e il dopo Cristo e quindi c'è anche il caso Senti, sei venuto qua per parlare dell'album, album che è uscito venerdì, quindi qualche giorno fa C'è stato anche un temporary store a Milano per lanciare e raccontare questo disco che si chiama Uomo Che disco hai fatto? Intanto che disco è? Il numero? Quanti ne hai fatti? Tu Mike, se ricordi che tu mi hai fatto la prima intervista vera della mia carriera Lo so, lo so Io ero il primo Quello era il primo, secondo se siamo d'accordo che era il numero uno Però fa ridere questa cosa Io intervistai Mondomarcio che era la sensazione del rap italiano uscito dentro una scatola, un casino pazzesco E l'intervista era così, uno giovanissimo, Mondomarcio, e uno già vecchio, io Ecco, pensate quanti anni sono passati e siamo ancora qui a parlare di questa musica che ci piace tanto No, quanti dischi hai fatto? Dunque, studio, album, proprio ufficiali, ufficialoni, questo qua è l'ottavo Però ho fatto dei mixtape curati come album, quindi se conti anche quelli è circa il dodicesimo Cavolo Però sai, è un po' come l'età, nel senso è un numero Cioè, uno può fare 40 album, uno più brutto dell'altro, Notorious Big ha fatto 3 album Sì, sì, sì Dipende quanto amore ci metti, quanto cuore ci metti Questo è un disco pieno di cuore 3 anni di vita, infatti di solito ci mettevo di meno, circa un anno, circa fare un album Mi sembra che tu ti sia preso una pausa un po' più lunga rispetto al tuo percorso solito, no? Poi io ti conosco, sei sempre in studio, quindi sei uno che è finito un disco, inizia a fare un po' di promo, qualche data e già c'hai pezzi nuovi Praticamente Questa volta ti sei preso un tempo più importante Sai cosa ho imparato in questi anni, cosa mi hanno consigliato e per una volta ho ascoltato? Che se fai hip hop, cioè se fai musica che è molto personale, devi avere cose da raccontare Per avere cose da raccontare, devi vivere queste cose È la verità E quindi se io ti ho raccontato delle cose a gennaio di un anno e a gennaio dopo sono di nuovo a darti un altro disco Cosa può essere successo di così clamoroso, no? E quindi ho vissuto in questi tre anni Sei andato un po' in giro anche Ho viaggiato molto, tanti Stati Uniti, perché sai, se ami la musica che noi amiamo, devi respirare un po' con l'aria E quindi tanti viaggi, tanti brani sono stati prodotti lì Angeli e Demoni è stato prodotto a New York DDR è stato prodotto a New York Uno dei pezzi che mi piace più del disco, Nuova Scuola, è stato prodotto da Swede di 8 to 8 Mafia Che è un collettivo che ha prodotto per Jay-Z e Future, quindi lasciamo stare Certo Sono gasato solo ad averli nei crediti del disco Credo Ad on E quindi sì, tante influenze americane, ma anche tanto lavoro in studio qua in Italia Non sei bravo ad andare avanti e indietro dagli Stati Uniti Io per esempio gli Stati Uniti li tengo un po' a distanza Perché ogni volta che vado e riesco a rimanerci un po' Adesso è tanto che non mi capita Però quando mi capitava prima Il ritorno mi crea una depressione pazzesca È traumatico Allora io per evitare quella depressione tendo ad andarci meno Al 100% sì Però se vai su ogni 3-4 mesi ti abitui I primi viaggi, la mia ex che conosci, te lo potrà confermare Facevo delle settimane quasi che non uscivo di casa Sì sì, ci credo Anche io ho una botta di down totale Dicevo il disco è uscito venerdì Si chiama Uomo Un disco che Marcio ha fatto Prendendosi un po' più tempo Rispetto al suo solito percorso Forse tre anni qualcosa del genere Sì sì, tre anni pieni Un bel po' Quanti pezzi hai fatto e quanti ne hai scartati? Ne ho fatti circa 80 Occhio eh Circa 80 Qui volevo arrivare È vero, è vero Perché sono circa 80 canzoni finite Neanche provine 80 canzoni finite Ne ho tenuti 10 Lo sai che non sei a posto Volevo il meglio del meglio del meglio Però a volte bisogna anche capire la consapevolezza Della persona Della persona che sta dietro Tu ne sei consapevole Giochiamo un po' al Mikasa mashup La strofa che metterà Mondomarcio è quella di DDR Quindi una strofa che già conosciamo Simo mettimi per favore il beat Ah bene, ok Allora il beat lo conosciamo O comunque chi segue la scena urban lo conosce Perché il beat di Travis Scott si commode Credo che Marcio metta sopra la strofa di DDR Quindi conosciamo anche la strofa Marcio il beat è tuo Vai, sei? Vai Marcio, Max Brigante, Radio 105 Ehi, ehi, ehi Bitch, I'm the man Tu stai in una band Questa non è una serie Noi non siamo friends Ho vinto ogni battle Fino a mattina sveglio Quello che fai adesso L'ho fatto prima e meglio Prima non c'era mercato Solo un uomo l'ha creato Dimmi grazie Dopo esci da dove sei entrato Io ho sudato tutto La storia testimonia Questi fanno i rapper Per fare i testimonial Ehi, sono mezzo uomo e mezzo dio Un faraone Ehi, sulla mia competizione Sono al capone Ehi, sei in presenza di uno dei più grandi miti Di sempre fra Togli me un altro e fra Sono finiti i rapper Sono morto e risorto Volevi farmi la festa O che mollassi il colpo Il colpo te lo mollo in testa Questi bimbi fra Devono farne di palestra Michael Jackson un Marcio li molesta Bitch, I'm a Brahma Rap God Leggendario sul mio trono Col mio scettro Più di un king Non te l'hanno detto Io ero già qui Quando ti bruciavi a letto Non ne abbiamo mai parlato Tra l'altro Di questa strofa Della strofa di DR Dove ti togli dei sassolini dalle scarpe Sì, abbastanza Però c'è da specificare Che tutti hanno detto subito Ce l'hai coi trapper Vuoi dare addosso ai trapper Non è vero Per niente Io ascolto un sacco di trap Amo la trap Mi piace la nuova scuola Al 100% È dedicato a un'attitudine L'attitudine di chi Vuole tutto subito Di chi incomincia da 5 minuti E già dice Ce l'ho fatta Ed è poco stimolante Per la musica E per la cultura in generale È vero È anche vero Che è figlio di una nuova generazione Non solo musicale Il tutto è subito Esatto È una questione molto più grande È una questione culturale È vero Assolutamente Mi piaceva perché Non avevamo mai parlato Di questa strofa Che in effetti Soprattutto sulle pagine Che parlano di Rap italiano L'avevano un po' letta Come Mondomarcio Che oggi appunto È più grande Anagraficamente Ce l'ha con i più piccolini Invece abbiamo Chiarito noi A nostra volta Io ti faccio Un in bocca al lupo Mega Per il tuo album Che è uscito qualche giorno fa Uomo Il nuovo album di Mondomarcio Cosa fai dal punto di vista Date? Vai in tour? Ma innanzitutto Faccio un giro in Europa Che ha tanti anni Che non tornavo E sono molto molto contento L'ultima volta è stata Nel 2008 circa E ci credo Quindi si facciamo Barcellona Dublino Londra E Amsterdam Anzi vuoi farti un giro in Europa? No ma bella Ti aspetto Facciamo una jam Fate video Fate video Fate di tutto Dopo Hai date anche però in Italia Sì ci sarà il 10 di aprile A Largo Venue a Roma Ok Ci sarà il 18 al Fabrique di Milano Tra l'altro Devi assolutamente venire Perché al di là delle mie canzoni Eccetera Sarà uno spettacolo fighissimo Perché ci sarà Scenografia Live band al vivo Ok Quindi musica suonata Sarà proprio un bello spettacolo musicale Mi dicevi 18 aprile 18 aprile 18 aprile Io quando gli artisti vengono qui Mi parlano di tour europeo Sono sempre molto invidioso Vorrei fare un tour europeo Anche di questo programma Cioè lo dico Purtroppo l'avventurini L'unica cosa che riuscite a farmi fare Train store Cioè ho fatto un libro Train store Capiremo Ci fosse anche qualcuno interessato All'ascolto Noi giriamo l'Europa Volentieri E io ti auguro Come ti dicevo prima Che tutto vada per il meglio E che tu sia felice Con il tuo nuovo disco Grazie di essere passato Grazie Max Sempre un piacere Mondo marcio A 105 mi casa